annunciato più volte, ma si sta cercando di mettere un po' di ordine tra questi sgravi fiscali, perché i sgravi fiscali che sono una parte importante di questa più grande riforma fiscale, che dovrà arrivare perché quella che è in manovra non è la vera riforma fiscale, è un provvedimento specifico in questa legge di bilancio. E in più c'è questo decreto fiscale che è in votazione al Senato e che deve, scusate alla Camera e poi deve andare al Senato. Quindi le partite economiche sono tante su tanti fronti. A me pare di poter dire una cosa, seguendo sindacati, partiti, dopo che la manovra è stata approvata in questione dei ministri da tutti, voto unanime ricordo, i partiti come forse molti di voi sanno hanno presentato 6.300 emendamenti e le forze di maggioranza, ne hanno presentate circa 4.500, adesso vado a spanne ma siamo su quello 4.200, 4.400, solo le forze di maggioranza. Allora è chiaro che anche su questa legge di bilancio si sta in qualche modo paga che cosa? Il fatto che questa legislatura, che questo esecutivo e tutto il Parlamento non sanno se questa sarà l'ultima legge di bilancio di Draghi, che è stata la prima di Draghi e sarà l'ultima di Draghi, oppure se ci sarà un altro. Quindi se la legislatura arriverà al 2023 sì o no. Altrimenti 6.300 emendamenti che sono normali in anni normali, ma questo non è un anno normale, non si possono spiegare. E ugualmente sindacati fanno delle richieste che sono legittime, ma tu hai 8 miliardi, ti hanno dato di questi 8 miliardi 7 per il taglio IRPEF, insomma a me non sembra cose da poco. Aspetta, sì sì sì, una parte di questi 8 miliardi, un'altra parte va al taglio chirurgico dell'IRAP, mettiamola così.